Quindi dopo, quando l'applicazione non funziona, poi quando c'è davanti giù, 45 gradi da fondo, poi da qua così, io sempre dico super, questo è super, super, questo braccio non fa sforza, come lo rilassa naturalmente. Se vuole rifare, già fatto, quando fatto, quindi io voglio dire già come funziona, già come, da qua così, lasciare, a poi giù l'anca, è per salire il braccio, la braccia, attenzione, il braccio mai da solo tirare su, quando foma, per esempio da qua così, mai tirare su, quando così su, giù l'anca, con legno su barca, acqua, sale, portare il braccio e sale, questo, il braccio fa sì, fa sì, fa sì, solo segue, poi su, per qui, lasciare il braccio, su per qui, lasciarla, così piano piano diventa molto più libero, molto più libero, non si può fare così, su, giù, così ligido. Questo anche può dare, ma a livello tecnico, non è a livello di energetico, ok. Ancora c'è? Ancora c'è la tua domanda? Ancora c'è la tua domanda? Se non c'è, io spiego un po' che la compagno bene, come impariamo forma bene. E magari io visito, eh, vostra scuola e vogliono tutti già tratti. E, e quindi, io spiego un po' per la compagno sì, poi, quindi ancora meglio. Soprattutto, facciamo forma, c'erano due tipi. Un tipo di posizione. Ogni tecnica c'è la sua posizione. Chiume, vai senkyu, vai due anzi. Vai senkyu, spazzaccia il notte. Vai senkyu, tang bien. Questo, motivo di, tipo, posizione, ok. Poi c'è la movimento Movimento va ad esempio An Poi lì E' un sequenza Seguenza, ok? Giù l'anca Poi su Vuol dire continui Fuma Posizione con la movimento di sequenza In mezzo In mezzo C'è la posizione passaggio Questa c'è bisogno di Tanti posizioni Passaggio importantissimo Io consiglio per voi Fai esempio Dopo Tanti vien da qua Questo Apri Da qua così Apri Questa posizione Qua così C'è bisogno di Questo dente Guarda avanti Fa una check Fa una check Lenturo Questa mano Questo è un punto Importantissimo Perché Tu fai così Questo Tanti specchio E' spazio Mio C'è bisogno di pensare Questo spazio Mio Se tu sei Dito fuori Mi spazio Aiuto Nostra Fisico Le lasse Perché c'è spazio Abbiamoci Abbiamoci Questa Esperienza Tanti male Oh che vero Le lasse Un male Questo è Quando L'intenzione Sulla Questo spazio Così E Le lasse Nostra 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 Fisico Ok Per quello Vuol dire Molto più importante Poi Quando Quando Applicazione Quando Fa Forma E quindi Capace Di Immaginazione E poi Capace Di Vuol dire Aprire La nostra Sensazione Con La Lucido Quindi C'era Un spazio Ieri Mi dice Spazio Wow Questo Questo E E Un posizione E Molto Molto Involuzione Per Impariamo La Controla Controla Spazio Per Smenupare La nostra Lucido Poi Perché Tanta gente Fa Questo Tanta gente Fa Applicazione Perché Funzione Perché Non Funzione E Tutto Sulla Sulla Tecnica Sulla Tecnica Abbiamo Capito Limita Limita Invece Sulla Immaginazione Sulla Lucido Controlo Spazio Funziona Molto Più Meno Perché Meglio Ok Adesso Proviamo Mettere Questa Posizione Da Qua Così Tantienza Da Così Io Polentica Così Più Tantienza Così Apri Poi Va dietro Va dietro Giù La Mica Apri Senti Fermo Senti Fermo Senti Tutti Senti Tutti Senti Tutti Senti L Senti 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 Senti